Così non riuscirà a lanciare un attacco a distanza Junior, cerca di tenerti a distanza! Si direbbe che io abbia vinto! Ma che cosa? Che succede? Ti ho preso, Frost! Ora sta fermo! Mentre accumulavo la mia aura, devi sapere che ho preso una decisione molto importante Ho scelto come colpirti Ho puntato tutto sulla tua aura Credevo che il solo fatto di disperderla potesse garantirmi la vittoria E infatti si è creata un'apertura Aspetta un attimo, ti sei fatto colpire la gamba per volgere la situazione a tuo vantaggio Complimenti, sei stato in gamba Ora sì che mi hai letteralmente in pugno Tenendomi fermo non corre il rischio che la tua tecnica speciale possa mancarmi Potrebbe non sembrare, ma nel settimo universo sono noto per la mia saggezza Non conosci le mie tecniche di combattimento, è questo l'unico motivo per cui perderai Prendi questo! Cannone spera! S'hai scoperto! Tannazione! No! Attento! Non mi hai specificato che se mi avessi colpito avrei perso È stato un grande onore combattere contro... La mia cupola super resistente! Dannazione! Immagino mi tocchi ripararla Dichiaro Frost, vincitore del duello!